Salve a tutti, cominciò con questo botto in prova del campione del mondo in carica Mika Ackinen il campionato di Formula 1 1999. Ora in attesa di capire se quest'anno la Ferrari riuscirà a vincere il titolo vediamo come lo perse quella volta e per la precisione come lo perse Edir Wijn che diventò il pilota di punta della scuderia dopo l'incidente di Schumacher a Silverstone. L'irlandese a sorpresa vinse il primo Gran Premio della stagione in Australia, primo anche della sua carriera, poi macinò punti grazie anche a Svarioni come gli strani crash di Ackinen a Imola e poi a Monza con le famose lacrime o quello di Schumacher stesso finito contro il muro dei campioni a Montreal. La vittoria in Germania dove il nuovo compagno di squadra Mika Salo si fece da parte e soprattutto quella in Austria dove resistette eroicamente all'ultimo assalto della McLaren di Kulkar lanciarono decisamente il pilota Gregario come si definì lui. Ma va precisata una cosa, il rapporto con la Ferrari era già in crisi ad inizio stagione, Montezemolo gli rimproverava uno scarso apporto nei tre anni precedenti, mentre Irvine non voleva più sapere di fare il numero due e il divorzio venne concordato già dopo Silverstone con Barrichello in arrivo ed Eddie verso la Jaguar. È in questa situazione che si arrivò al Gran Premio d'Europa al Nürburgring e al fattaccio dell'incredibile pit stop infinito senza trovare la ruota da cambiare. Fortissime e inevitabili le polemiche sul presunto complotto per non far vincere Irvine che Montezemolo respinse come ridicole provinciali e offensive per la Ferrari. Certo è che poi venne pure l'inaspettata debacca in casa a Monza con Irvine solo sesto e Salo terzo al quale però non vennero impartiti ordini di rallentare per non rischiare si disse di perdere punti preziosi per la classifica costruttori. Il ritorno di Schumacher significò un grande aiuto in Malesia dove al netto della contestazione sui deflettori Irvine vinse e si rilanciò ma anche una condotta da parte del tedesco che molti hanno ritenuto poco determinata nel decisivo Gran Premio del Giappone. Irvine si complicò la vita con questo crash in prova e in gara fu anonimo terzo dietro Schumacher ed Ackinen al quale consegnò il titolo per soli due punti. Finale Schumacher partecipò addirittura ai festeggiamenti McLaren. Jean-Todd disse mi dispiace per Eddie ma non possiamo essere delusi riferendosi alla conquista del titolo costruttori. Irvine concluse dicendo non si è creduto fino in fondo che un gregario potesse riportare il titolo a Maranello. Grazie per l'attenzione lasciami un like se il video ti è piaciuto e iscriviti al canale cliccando anche la campanella per essere avvisato delle prossime uscite. Ciao